La signora Capasso è un personaggio molto interessante, ce l'ha con tutti, quindi si bisticcia sempre con tutti, sempre livorosa, astiosa. Piano piano, via via, che il film scorre, anche lei comincia a scoprire anche un lato proprio della vita dolce, bella, innamorata, e quindi si addolcisce. La scena più divertente che ho girato è sicuramente la scena che ho fatto Goldino a Brescia, eravamo in un taxi e ce l'hanno fatto a girare 300 volte perché ogni volta c'era sempre fuori qualcosa di nuovo e c'è uno scambio di battute ma anche proprio fisico, molto carnale, Goldino, che se non mi fermavano io andavo avanti, c'è proprio che ho strappato i capelli, ho dato un morso sul naso, e se ne vedono delle belle. Fortunatamente non abbiamo assolutamente nulla in comune io e la Capasso perché appunto è un personaggio che ha sofferto molto, sempre nastro con la vita, proprio al mio posto, anzi, io devo dire perdono sempre. Non abbiamo tre motivi per vedere questo film, ne abbiamo cento, minimo. Che cosa meravigliosa andare a vedere un film dove ti lascia un segno, ti fa riflettere, si ride tanto, poi scusate, insomma c'è Belen che è di una bellezza da togliere il fiato, il mio personaggio fa schiattare le risate, Dino e Fabio sono esilaranti, che volete chiù, ah?